sono stati un anno e mezzo, due anni molto intensi, abbiamo fatto un sacco di strada anche insieme e saluto tutti i partecipanti, quelli che conosco e quelli che non conosco personalmente. Oggi chiudiamo tutta questa ricognizione sulla formazione valoriale che abbiamo trattato già in molti altri webinar, cerchiamo di fare un passo avanti anche in virtù dell'aggiornamento del piano nazionale che dà alcune indicazioni, non tanto sulla formazione perché ci dedica un piccolissimo paragrafo, anche se lì ci sono scritte comunque delle cose interessanti sulla formazione, però mettiamo a sistema un po' tutta l'esperienza che ci siamo fatti ormai in quasi tre anni di lavoro e di lavoro utilizzando i casi, utilizzando quelli che noi chiamiamo gli scenari. Oggi voglio farvi vedere come io utilizzo questa metodologia degli scenari, fino a un certo periodo l'ho utilizzata soprattutto dal punto di vista della formazione divulgativa, cercare di coinvolgere i dipendenti all'interno di questo oscuro meccanismo che a volte può sembrare la legge 190, però dall'aggiornamento del piano in poi ho anche cominciato a sviluppare ipotesi su come utilizzare i casi, gli scenari per ricostruire effettivamente uno degli ambiti più controversi del piano triennale di prevenzione della corruzione, cioè l'analisi del contesto esterno e l'analisi del contesto interno, cioè come facciamo dalle cose che ci raccontano nella formazione e vi assicuro che ce ne raccontano di tutti i colori, come facciamo a risalire, ad avere informazioni utili per mettere a disposizione di una strategia di prevenzione importante, se voi avete letto l'aggiornamento al piano nazionale, l'analisi del contesto esterno e l'analisi del contesto interno sono due sezioni del piano che sono state giudicate inadeguate in larga parte, a mio avviso soprattutto l'analisi del contesto interno è proprio uno dei momenti cruciali, se mi dovessi leggere i prossimi piani di prevenzione della corruzione, probabilmente l'unica cosa che mi leggerei veramente è l'analisi del contesto interno, perché io lì capisco se un'amministrazione ha messo in campo una serie analisi di quello che succede dentro l'amministrazione, per poi costruirci sopra una prevenzione del rischio, un'analisi di gestione del rischio, ma l'analisi di gestione del rischio potrebbe non essere ben sviluppata in assenza di informazioni rilevanti nella sezione dell'analisi del contesto esterno e soprattutto nell'analisi del contesto interno. Adesso bando alle chiacchiere perché mi serviva che arrivasse numerosi, perché la prima cosa che facciamo è proprio il caso e quindi se non condividiamo il caso diventa difficile poi seguire tutto il ragionamento che c'è dietro. Quello che vi voglio far vedere subito è il caso, vi faccio vedere come lo utilizzo io, dopo la dottoressa Schifano farà invece un ragionamento più ampio sulla metodologia. Questo è il caso, oggi ho scelto di raccontarvi un caso che come al solito mi hanno raccontato anche abbastanza recentemente, siamo il dipendente pubblico in questione, un medico chirurgo, ultimamente mi capita di andare molto nelle ASL e negli ospedali, quindi il dottor Bianchi è un medico chirurgo che presta la propria attività lavorativa presso l'ospedale XY, immaginate voi, è anche consulente di una nota società farmaceutica che gli ha chiesto di organizzare nella sua città un importante convegno su un nuovo farmaco, da un punto di vista logistico si tratta di trovare una location di un certo prestigio e non si vuole fare brutta figura, la società farmaceutica però gli chiede di contenere i costi visto il periodo di crisi. Il dottor Bianchi ricorda che da poco ha eseguito una complessa operazione rimuovendo un tumore ad una signora il cui marito è notoriamente uno degli amministratori di una importante catena alberghiera. Un prestigioso resort che fa parte della suddetta catena alberghiera in particolare si trova proprio nell'area in cui il dottor Bianchi aveva pensato di organizzare un importante convegno. Farebbe proprio al caso suo, ma ha un costo notevolmente superiore a quello indicato dalla società farmaceutica. Peraltro lo stesso marito della signora gli ha recentemente espresso il desiderio di sdebitarsi. Al dottor Bianchi viene in mente di chiedere al marito della signora come sorta di corrispettivo della buona riuscita dell'operazione di poter organizzare il convegno nel resort a un prezzo notevolmente inferiore circa la metà di quello che viene normalmente praticato. Ok, adesso ve lo rispiego per quelli che magari sono arrivati più tardi. Dottor Bianchi è un medico chirurgo, opera tumori soprattutto, è anche consulente di una società farmaceutica, ma in questo caso non ha nulla a che fare col conflitto di interessi. Questa società farmaceutica gli chiede di organizzare un importante convegno proprio dove sta lui, però dice attenzione non abbiamo tanti soldi, c'è la crisi, il tuo budget non è molto alto, però vorremmo comunque che fosse una location prestigiosa. Allora il dottor Bianchi comincia a ragionare e gli viene in mente che aveva appena eseguito una importante e complessa operazione alla moglie di un'importante catena alberchiera che guarda caso c'è proprio un resort che farebbe proprio al caso suo. E questo marito della signora gli aveva anche detto guardi mi ha fatto un grosso favore a operare la mia moglie, è andato tutto bene, vorrei ringraziarla, come posso fare? E allora il dottor Bianchi diciamo lo coglie l'occasione e gli viene in mente di chiedere al marito proprio della signora che sente un debito di riconoscenza come sorta appunto di corrispettivo della buona riuscita dell'operazione, io vorrei organizzare questo convegno proprio nel tuo resort, però ho un budget limitato, avrei bisogno comunque di, siccome l'operazione è andata bene, tutto bene, avrei bisogno comunque che tu mi facessi un bello sconto, questo è il caso, cosa farà il dottor Bianchi? Perché stiamo nella situazione in cui lui non ha ancora deciso se chiedere questa cosa o meno. Dilemma etico, qual è il dilemma etico? Il dilemma etico potrebbe richiedere il prezzo notevolmente scontato, però intuisce che c'è qualcosa che non va, oppure potrebbe non richiedere il prezzo notevolmente scontato e chiaramente questo provocherebbe un guaio per lui. Quale sarebbe il problema? Quando io sto in formazione rivolgo sempre la domanda al pubblico, dopo che ci siamo messi d'accordo un po' sul caso, abbiamo capito le circostanze. Io rivolgo la domanda all'auditore, se decidesse di richiedere quel prezzo notevolmente scontato, che succede? Quali sono le implicazioni? Questo lo vediamo dopo. Quale regola secondo voi sta violando il dottor Bianchi nel momento in cui decide di richiedere a titolo di corrispettivo per una prestazione che ha già svolto? E qui la platea in qualche maniera è sempre divisa, ci sono persone che dicono che non ci sarebbe nessun problema, lo dicono molto chiaramente, e altre persone che dicono invece che intuiscono che c'è qualcosa che non va in questo comportamento. Ecco tutto il gap che c'è tra l'intuizione che c'è qualcosa che non va e capire esattamente il motivo per cui quel comportamento è una violazione, è proprio tutta la fase della formazione sul codice di comportamento, però noi vorremmo anche saperne di più. Intanto vediamo qual è la regola che viola il dottor Bianchi, è la seconda parte dell'articolo 4 del comma 2 dell'articolo 4 del codice di comportamento, l'articolo 4 è una regola famosissima, è quella del dipendente che non accetta per sé o per altri regali o altre utilità, salvo quelli di uso di modico valore, questa penso la conoscono bene quasi tutti, ma la seconda parte è sconosciuta ai più e che dice che in ogni caso, indipendentemente che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede per sé o per altri regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio. E qui sta la grande differenza, in realtà mentre la prima parte si occupa del dipendente che non accetta quando qualcuno gli vuole dare un regalo, nella seconda parte il codice di comportamento e quindi l'ordinamento giurico dice che è inconcepibile che un dipendente pubblico richieda, quindi c'è questa grande differenza, l'atto del richiedere a titolo di corrispettivo per un atto, per una prestazione che comunque ha compiuto, avrebbe comunque dovuto compiere per il proprio ufficio qualcosa in cambio, neanche di modico valore, la questione del modico valore è sempre quella che esce fuori, quella dei 150 euro, ma questa seconda parte non la considera mai nessuno, che invece è molto più interessante ed è quello che succede anche molto più spesso, insomma. Qual è il problema di questo comportamento? Se il dottor Bianchi richiederà il prezzo notevolmente scontato, contribuirà a rafforzare nell'opinione pubblica la netta percezione che chi opera in quella struttura pubblica può ottenere intollerabili vantaggi, nuocendo gravemente alla reputazione della PA e di quella dell'ospedale in particolare. Diceva un noto commentatore del XVI secolo, Jean de Corat, in uno scritto famoso che riguardava i giudici, intesi come funzionari pubblici, che richiedevano in cambio di una sentenza favorevole, richiedevano il pagamento di un costo aggiuntivo alle controparti, diceva ma voi già siete pagati dal re, come vi permettete di chiedere anche altri soldi ai cittadini? Facendovi forti solamente del rapporto di potere che avete proprio perché siete dei giudici. Quella posizione, quell'abuso della posizione o del fatto che tu comunque come dipendente pubblico hai compiuto un atto che avresti comunque dovuto compiere, per il quale tu comunque ricevi un compenso, quello è intollerabile perché all'occhio dell'opinione pubblica, in questo caso dell'utenza, significherebbe avere la percezione che chi sta lì ha un privilegio, può ottenere intollerabili vantaggi. L'altra questione, l'altra implicazione riguarda il rafforzamento di una cultura diffusa tra gli operatori economici locali per i quali sembra essere un atto dovuto il doversi sdebitare, che è l'inveccata. Per l'ospedale essere informati di questo tipo di comportamento da parte del proprio personale è un'informazione assolutamente rilevante ai fini della costruzione di un'adeguata strategia di prevenzione. Adesso cerchiamo di capire, entriamo un po' più nel dettaglio del motivo per cui questa è un'informazione rilevante. Ci sono tre fattori che dobbiamo considerare, il fattore umano, la cultura organizzativa e la cultura sociale, partiamo dal fattore umano. Andiamo un po' avanti con la storia, con il caso, siamo sempre nella fase decisionale, dilemma etico, il dottor Bianchi sta ancora valutando se richiedere quel resort al tizio, al marito della donna che ha operato. La prima cosa che fa è avvia una manipolazione interna, si cerca di autoconvincere che sia la cosa giusta da fare. Intanto quali sono le scuse, gli alibi che cerca di trovare? Non ritiene che quel comportamento sia commendevole, non sta certo chiedendo di utilizzare la struttura gratis, solo vuole contenere i costi come indicato dal budget che la società farmaceutica gli ha messo a disposizione. La prima manipolazione è che non gli sto chiedendo quel resort gratuito, gratuitamente, gli sto chiedendo di farmi un certo sconto, farmi rientrare nel budget che è previsto dalla società. E l'altra ancora più forte come manipolazione, non vuole assolutamente fare brutta figura con la società farmaceutica, si gioca in questo caso il suo prestigio e la sua reputazione, se fallisse il suo status sociale all'interno del ristretto circolo di specialisti, subirebbe un forte contraccolpo. Ecco la questione dello status che è così importante nel nostro paese, lo status sociale, stare dentro un circuito e cercare di non uscire da questo circuito, a volte è una pressione ancora più forte del rispettare le regole, sostanzialmente. Perché lui avvia questa forma di automanipolazione individuale? Per cercare di contenere quella sua decisione all'interno di un confine di onestà, lui sta realizzando una cosa molto difficile da fare, che le persone che violano le regole spesso fanno. Cioè lui deve continuare a considerarsi onesto. Io ho fatto tutto un webinar su questa questione della disonestà delle persone oneste. Le persone per violare una regola hanno bisogno di raccontarsi delle cose in testa, hanno bisogno di distorcere la realtà, diciamocela così. Questa operazione si chiama malleabilità nella categorizzazione di un'azione, cioè le azioni devono essere più malleabili. Se io dico rubare c'ha un certo significato, se io dico prendere in prestito sicuramente c'ha un significato più malleabile, che si può comunque gestire. Deformando il significato di un'azione, non se ne coglie la vera natura, non se ne coglie la vera implicazione e quindi le persone possono in qualche maniera violare una regola senza dover per forza considerarsi disoneste. È un'operazione fantastica, perché noi siamo pieni di gente disonesta che invece continuano a pensare di essere onesta. Quando lo faccio con i bambini, questo esempio, nelle scuole utilizzo questo esempio della rubare una matita. Rubare una matita da 50 centesimi a un amichetto ha un certo significato, è un significato molto forte, i bambini quasi mai lo fanno, mettere le mani in tasca, mettere le mani nel portafoglio dell'amichetto e prendere 50 centesimi, è un atto molto grave, piuttosto come rendono malleabile questa azione? Possono dire, ma io ho preso in prestito la matita dal banco del mio amichetto, nonostante il risultato sia lo stesso, rubare 50 centesimi dal portafoglio di un amico e poi comprarsi una matita equivale al gesto di prendere in prestito, quindi acquisire la matita dell'amichetto, alla fine l'effetto è lo stesso, però è molto più malleabile raccontarsi che uno si prende in prestito una matita. Chi è veramente bravo a fare questo tipo di operazione mentale, a questa manipolazione mentale sono le persone dipendenti, cioè quelle persone che hanno problemi di dipendenza, per esempio il giocatore d'azzardo attraverso la FISH rende molto più malleabile l'azione del giocare d'azzardo, perché non sta usando i soldi, sta usando le FISH, sta usando un cosiddetto intermediario simbolico e quello gli permette di violare la sua regola di comportamento senza dover per forza aggiornare il suo concetto di sé, senza considerarsi una persona disonesta. La prima fase è un percorso mentale di manipolazione, le persone parlano a se stesse, hanno un dialogo individuale e questo dialogo individuale può esistere o meno, ci sono persone che questo dialogo non se lo fanno proprio, non se lo pongono proprio questo problema, quello che però faranno sempre le persone, questo è sicuro, e osserveranno quello che fanno gli altri, osservare le condotte altrui per cercare di orientarsi. In questo caso, sempre nel caso del dottor Bianchi, lui comincia a guardarsi intorno, che cosa vede? Che altri specialisti, i suoi colleghi gli hanno confidato di aver richiesto grandi e piccoli favori da persone che avevano operato, sembra che questo comportamento sia una prassi consolidata all'interno della struttura, ecco l'analisi del contesto interno, prassi consolidata all'interno della struttura. Quello che fanno gli altri non è un argine nei confronti della mia violazione, anzi è un lascia passare, questo è quello che fanno gli altri colleghi, ma la leadership fa qualcosa di più, il primario pure a conoscenza ai tali comportamenti è sempre ritenuto di non dover intervenire, in ragione del fatto che il suo orientamento è ognuno è responsabile dei propri comportamenti. Ecco, oltre ai propri colleghi, il comportamento del capo, la condotta del capo è ancora di più un lascia passare, perché? Perché la leadership, la funzione dirigenziale, quel capo in quel momento non la sta esercitando, spesso ci troviamo di fronte a queste forme di leadership, cosiddette lasciar fare, l'SFR dicono i francesi, per cui uno interpreta la funzione dirigenziale solamente in maniera tecnica, la funzione dirigenziale, lo dice anche il codice di comportamento dell'articolo 13 in maniera molto chiara, è una serie di comportamenti organizzativi tra cui c'è sicuramente il prendere in seria considerazione i comportamenti del proprio gruppo di lavoro. In quell'ambiente, in quel contesto, noi possiamo assolutamente dire allora che c'è una certa disattenzione, anzi una totale disattenzione verso gli standard etici, cioè se io ho un problema di manipolazione, per cui sto per violare una regola e quindi sono in una posizione di fragilità, sto gestendo un dilemma etico piuttosto complicato, di fronte a me intorno a me ho un contesto che non è in grado di arginare quel comportamento, cioè che non mi rimanda in nessun modo il carattere di violazione di quel comportamento, perché in quel momento, in quella micro organizzazione dove io sto c'è una totale disattenzione verso gli standard etici. La disattenzione verso gli standard etici è un fatto sociale, un comportamento organizzativo, infatti a volte parliamo proprio di abbandono etico, quando per esempio succede, potremmo fare l'esempio del comune di Sanremo, quel famoso esempio in cui 40 e passa persone veggiano e se ne vanno, alcuni addirittura in mutande, voi potete realisticamente pensare che quelle persone non si accorgevano di quella roba lì, il problema è che in quel momento vivevano uno stato di totale abbandono etico, nessuno in quel contesto era in grado di riflettere sul comportamento che stavano attuando, nessuno era in grado di riportare al proprio collega se quel comportamento era giusto o sbagliato secondo l'etica pubblica. Ma lo vediamo spesso in tantissime situazioni, per esempio se osserviamo lo scandalo delle spese pazze dei consiglieri regionali, quando vediamo queste forme di violazione persistente e generalizzata, allora lì sicuramente c'è uno stato di abbandono etico, perché dico questo? Perché quello lì è un contesto interno che all'interno del piano triennale di prevenzione della corruzione è un'informazione assolutamente rilevante. Ultima parte, cultura sociale, qui questo ci serve come informazione proprio per ricreare e ricostruire invece il contesto esterno, cioè fuori dall'amministrazione che succede, quali sono i pensieri rilevanti, quali sono gli atteggiamenti, le prassi? Qui è molto chiaro, lo stesso marito della signora, quello che aveva in gestione il resort, era anche uno degli amministratori della catena alberghiana, gli ha fatto capire al dottor Bianchi che avrebbe piacere a sdebitarsi, intendendo questo comportamento come un obbligo morale e in ragione delle conseguenze sociali che ne deriverebbero se non lo facesse. Il contesto esterno invece di fornire un argine ulteriore a questo comportamento, in realtà invece lo sta favorendo, perché non è un contesto esterno appunto sfavorevole, è un contesto esterno che invece favorisce la violazione. Attenzione che questi non sono comportamenti difficilmente individuabili, l'atto dello sdebitarsi e il sentimento di gratificazione che ha una persona sono quanto di più connaturato alla nostra natura, se un medico chirurgo compie un'operazione e salva la vita di tua moglie, a meno che tu non voglia disfarti di tua moglie, allora è un altro discorso, allora un sentimento di gratitudine nasce spontaneo e non c'è niente di male, il fatto che una persona per un atto, un provvedimento, una prestazione di un dipendente pubblico si possa avvertire un senso di profonda gratitudine, è un fatto naturale, anzi è un fatto meno male che c'è la gente che sente gratitudine, il problema è quando il dipendente pubblico abusa di quel senso di gratitudine e richiede una controprestazione, è quello il problema, è l'uso strumentale di quel senso di gratificazione a vantaggio del dipendente pubblico, quindi attenzione che questi sono comportamenti sulla base dei quali qualche anno fa, anzi molti anni fa nel XV-XVI secolo qualcuno ci ha fatto una rivoluzione profonda, parlo di Martín Lutero e della riforma protestante luterana, perché nascono tutti da questa profondissima tradizione dell'ex voto o del per grazia ricevuta, nel momento in cui il medico chirurgo opera in maniera positiva quella donna, nel marito sorge l'idea che quel funzionario pubblico in quel momento sta compiendo un vero e proprio miracolo nei confronti del quale io debbo sdebitarmi e questa è la tradizione che c'è sotto, la gente fa questo tipo di ragionamento, eccolo qua. Ed è la tradizione culturale che sta sotto il meraviglioso passaggio dei promessi sposi, quando Agnese convince Renzo di andare dalla zecca a garbuglia e gli dice attento, non bisogna mai andare con le mani vuote da quei signori e lo invita a prendersi quei due poveri capponi, non so se erano due, però quei capponi e quel meraviglioso passaggio in cui appunto Renzo gesticolando fa in modo che questi capponi si beccassero l'uno con l'altro, come accade troppo sovente tra compagni di sventura, è un passaggio fantastico. Ok, arriviamo al punto finale prima di dare la parola alla dottoressa Schifano che fa un quadro più metodologico rispetto a questo, da queste informazioni che questo caso mette in evidenza, immaginate che questo è un caso inventato, ma poi nella formazione ci raccontano casi reali insomma, quindi noi abbiamo un patrimonio di scenari da cui poi trarre numerosissime informazioni, immaginiamo che questo fosse un caso effettivamente di una situazione riportata all'interno di una formazione, ci dice tantissime cose, intanto ci dice moltissimo sul fattore umano, chi lavora, che ha in testa, il dipendente pubblico, quale tipo di meccanismo mentale ha in testa? Questo caso dimostra palesemente che c'è una certa capacità nel rendere malleabile le azioni, la malleabilità nella categorizzazione delle azioni, la gente si manipola e si manipola soprattutto in virtù del fatto, il secondo punto è che è incapace di leggere i propri altrui comportamenti, in quel momento la regola di comportamento, articolo 4,2 è solamente una regola formale, non è stato mai fatto un passaggio a livello individuale che in qualche maniera prende questa regola e la inserisce all'interno di un processo decisionale vero e proprio, ed è quello che succede quasi sempre, quando faccio questi casi mi rivolgo alla platea e gli chiedo, ma quale regola sta violando secondo voi? Quasi mai mi ritorna indietro un'esatta interpretazione, un'esatta lettura di quel comportamento, quindi a livello individuale la formazione sul codice di comportamento non può essere fatta come spesso purtroppo viene fatta leggendo le norme o discutendo le norme, discutendo la regola di comportamento, queste regole vanno messe dentro la vita delle persone, nella gestione dei dilemmi etici che le persone vivono quotidianamente, ma poi questo caso ci dà informazioni ancora maggiori rispetto alla cultura organizzativa di quel posto, intanto c'è una totale disattenzione verso gli standard etici, in quella organizzazione nessuno mai riflette su che cosa è giusto e che cosa è sbagliato rispetto alla gestione. All'etica pubblica e poi c'è una questione legata alla leadership, se io posso anche ammettere, ma non lo farei diciamo, che le persone non conoscono le regole di comportamento, non posso ammettere che i capi, cioè la leadership, non le conoscano e non le sappiano interpretare e per quelle che sono. Ci vuole una funzione dirigenziale di qualità, cioè che sappia fare proprio questo passaggio, interpretare, leggere i comportamenti delle persone. Sul contesto sociale e quindi sull'analisi del contesto esterno, questo caso ci riporta, ci dà informazioni molto importanti su come le persone che stanno fuori dall'amministrazione entrano in contatto con l'amministrazione, qui c'è una certa propensione alla collusione. Si fa poi un passaggio in formazione, si fa spesso un passaggio sulle cosiddette misure di mitigazione del rischio, perché poi questi sono tutti i rischi, potete immaginare, possono essere tradotti molto facilmente in rischi. e quali sono le misure? Le misure a livello individuale è fare un po' di formazione, cioè cominciare a rendere meno malleabili i comportamenti, il peculato è peculato, non è che mi sono preso in prestito dei fogli dalla fotopietrice, faccio un esempio banalissimo, ce ne sono tantissimi di questi. Lavorare sui codici di comportamento, introdurre delle specificità, delle integrazioni. A livello organizzativo, lavorare sulla cultura organizzativa, che è molto anche più complesso, è proprio l'obiettivo del piano triennale di prevenzione della corruzione, per esempio canali di segnalazione interni, introdurre canali di segnalazione interni, riqualificazione micro-organizzativa, aumento dei controlli, etc. Sulla parte della cultura sociale ci sarebbe molto da discutere, ma adesso oggi non abbiamo tempo, quindi io vi invito, se volete, a collegarvi anche con una specie di deposito di tutti questi scenari che abbiamo e che io curo nel mio blog che si chiama Spazio Etico. Adesso passo la parola alla dottoressa Schifano, prima però un minuto me lo date per ringraziare la dottoressa Schifano, in particolare Francesca Formiga, Giosi Ciccarelli e tutti quelli che hanno in qualche maniera collaborato alla realizzazione di questo progetto, questo è stato un progetto fantastico, io ci lavoro come consulente esterno, ma posso assolutamente dire che è stato un progetto di grande successo, abbiamo avuto dei risultati importantissimi e devo dire anche il clima che si è respirato in questo anno e mezzo, due anni è stato assolutamente, non saprei dire se è perfetto, mi sembrerebbe l'unica parola da utilizzare e vi auguro a tutti voi di poter lavorare come noi abbiamo lavorato in questo anno e mezzo. Adesso passo veramente la parola alla dottoressa Schifano e vi saluto. Buongiorno, mi sentite? Allora, aspettando che mi sentiate tutti quanti, io ringrazio Massimo per queste parole, naturalmente non voglio entrare in questo clima di saluti che sarebbero... però poi ci mettiamo a piangere, però io non c'avevo più tempo magari dopo e allora l'ho dovuto fare... che si sappia cosa penso di questa cosa, esatto. Sì, grazie mille e naturalmente condivido, non solo perché sono stata la rete... Il progetto chiude il 31 dicembre, non voglio dire niente, io spero che queste esperienze abbiano modo di essere valorizzate poi rispetto a quello che sarà anche il destino dell'istituto, visto che ci stanno pensando e spero che appunto il patrimonio importante che abbiamo accumulato in questo anno e mezzo venga valorizzato anche con prossime iniziative, considerato appunto che abbiamo una rete di relazione anche sia tra le amministrazioni ma anche tra gli esperti che tutti voi conoscete perché poi li avete visti durante i nostri webinar e quindi niente, che vi dico? Vi dico niente, vi rimando quando decideranno quale sarà la mission e la strategia di Formez. Con Massimo condivido appunto questa importante soddisfazione rispetto alle esperienze fatte. Vi vorrei invece appunto adesso parlare del catalogo dei casi. Allora, tutti quelli che vi ha raccontato Massimo sono casi che come avete visto nella loro descrizione rimandano a moltissimi concetti, aspetti concettuali. da una parte rimandano anche a tutto quello che attiene soprattutto le regole codificate, i documenti formali che un'amministrazione produce. Quindi io rimango dell'opinione che lavorare attraverso l'analisi dei casi e contribuire a fare quello che poi sostanzialmente il Piano Nazionale Anticorruzione chiede, cioè contribuire a raccoglierli e a farne un catalogo, per un'amministrazione è importante altrettanto quanto impostare un'analisi dei rischi, come molti si sono concentrati a fare, che sia il più possibile aderente a quello che poi chiede la 190. quindi è importante determinare l'analisi dei rischi, quindi individuare un catalogo dei processi a rischio, ma è importante soffermarsi sulla parte qualitativa, cioè sulla raccolta dei casi che coinvolgono effettivamente un'organizzazione, seguendo con alcune cautele di metodo che vi andrò a dire. Intanto partiamo dal Piano Nazionale Anticorruzione, a pagina 50 c'è scritta questa frase le amministrazioni debbono avviare apposite iniziative formative sui temi dell'etica e della legalità, tali iniziative debbono coinvolgere tutti i dipendenti e i collaboratori a vario titolo dell'amministrazione, debbono riguardare il contenuto dei codici di comportamento e il codice disciplinare e devono basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti, deve essere prevista l'organizzazione di appositi focus group composti da un numero ristretto di dipendenti e guidati da un animatore, nell'ambito dei quali vengono esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell'amministrazione, al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni. In realtà questa frase diventa importante perché in realtà i casi servono per evidenziare e contestualizzare delle criticità etiche, questo è l'intento del piano nazionale e questo dovrebbe succedere analizzando delle situazioni complesse perché il caso spesso attraversa diversi processi organizzativi, quindi un'analisi che non parte dai singoli processi organizzativi, quelli che vi invita a contestualizzare, a analizzare l'analisi del rischio. Un caso può addirittura, può anzi come sicuramente vi ha fatto vedere anche Massimo di Rienzo prima, coinvolgere il contesto esterno, quello interno, oltre che ovviamente la sfera individuale. Evidenziare e contestualizzare criticità etiche sviluppando la capacità di analisi di situazioni anche quando le informazioni non sono sempre esaustive e a volte queste stesse informazioni hanno valenze ambigue, come appunto dimostra anche l'analisi quando si fa il dilemma etico, cioè spesso possiamo trovarci ad avere non tutte le informazioni per poter decidere. Esercitandosi a decidere, quindi a trovare le soluzioni eticamente adeguate che suggerisce il piano nazionale, individuando le prassi e i codici sottostanti, proprio come vi ha raccontato Massimo, cioè le prassi consolidate anche quando appunto non sono eticamente corrette, i codici sottostanti che di solito appunto spiegano poi perché quelle prassi si sono consolidate. Discutendo, perché quello che abbiamo visto spesso nella nostra esperienza in tutto questo tempo è che la discussione, quindi riflettere insieme spesso cambia la percezione della portata del caso, della portata etica naturalmente, individuando condotte che sono prodromiche alla corruzione e fuori dai processi a rischio, anche questo naturalmente oramai lo deriviamo proprio dall'esperienza di cui ci mettono appunto a conoscenza le amministrazioni con cui parliamo, non tutto è prevedibile individuando i punti di rischio all'interno dei processi, ci sono moltissimi comportamenti che sfuggono all'analisi del rischio e che invece andrebbero appunto in qualche modo sanzionati perché sono appunto o già di corruzione oppure appunto che precedono fatti veri e propri di corruzione. Quindi per tutto questo l'analisi dei casi vi può molto aiutare. Allora, se si può usare il caso come uno strumento di analisi organizzativa, di solito questi quattro slide che seguono sono integrate in una lezione che vi fa massimo anche sulla formazione valoriale, l'esperienza, diciamo la modellizzazione viene da una studiosa australiana e l'Australia come sapete è molto avanti rispetto appunto alle misure di prevenzione della corruzione. Allora, i casi come strumento di analisi organizzativa, un po' quello che può fare per esempio il responsabile può organizzare il responsabile di prevenzione della corruzione dentro un'amministrazione, che cosa può fare? Può mettere insieme funzionari, dirigenti e se ci riesce il livello politico che si incontrano per elaborare una narrazione dei dilemmi etici o dei casi che incontrano nel loro lavoro. Questa fase si chiama dilemma gathering session, sempre negli studi di questa esperta. Nella seconda sessione i partecipanti analizzano i dilemmi, un po' come ha fatto proprio Massimo, quindi le forze che agiscono e discutono le possibili implicazioni individuali, organizzative e sociali delle scelte operate. Questa è la fase appunto della dilemma analyzing session. Un gruppo più ristretto di rappresentanti, di rappresentanti, di funzionari, dirigenti e politici guidati dal responsabile della prevenzione della corruzione, pianifica le azioni organizzative e formative necessarie per ridurre il rischio di scelte non etiche. Quindi siamo nella planning session. Quindi questo dovrebbe essere poi lo scopo dell'analisi appunto dei casi. Nell'ultima sessione i partecipanti vengono consultati in merito alla ridefinizione delle regole, quindi è un'integrazione col codice di comportamento, col piano triennale della prevenzione della corruzione, della policy di whistleblowing, proprio in base all'esperienza di apprendimento fatta. La coding session, quindi una sessione che codifica ha i risultati acquisiti. Scusate, sono un po' malata, ma ci vorrebbe un formatore facilitatore, responsabile, spesso non ha queste competenze. È vero, è vero, però quello che vi posso suggerire, siccome i formatori queste competenze invece di solito ce le hanno, di chiedere ai formatori interni, alle vostre amministrazioni di darvi supporto in queste fasi. Scusate questa tosse perché ho parlato troppo, mi viene quando parlo perché non sono fuori dall'influenza. In realtà sì, fatevi dare una mano direttamente anche dai formatori, in realtà il gruppo di cui vi dicevo prima, più è multidisciplinare e meglio funziona. Dal punto di vista della formazione vi voglio anche dire come funzionano i casi come strumento formativo. Possono essere di due tipi, ci può essere lo studio di caso, quindi un caso di repertorio, un testo costruito come pretesto didattico, come insieme di avvenimenti e condizioni che definiscono un problema con una soluzione tipo, che può anche non essere unica. Poi ci sono gli autocasi, che sono quelli che piacciono di più a Massimo e a me, cioè è un caso reale frutto dell'esperienza dei partecipanti, che mettono in gioco il vissuto, mappe cognitive, valori, atteggiamenti, tutti i tag che vi servono questi per approfondimenti ulteriori. Quindi si evita la distanza tra il problema considerato e l'esperienza dei partecipanti, perché è un esame della realtà e va condotto con una tecnica di ricerca di aula. Anche se scritto piccolissimo, in realtà l'ho messo questo caso perché è molto bello ed è un esempio di studio di caso che è stato costruito per un'esperienza formativa fatta direttamente da me nel momento in cui formavamo i responsabili della prevenzione della corruzione. Questo caso è stato costruito a maggio 2013 dal consigliere giudice magistrato Achille Bianchi, che conoscete benissimo perché ha realizzato dei webinar anche per noi all'interno di questo progetto e io vi invito a leggerlo perché è proprio quello classico, doveva mettere in evidenza le novità, gli aggiornamenti che la 190 ha portato dal punto di vista dei reati penali e quindi questo caso è stato costruito proprio evidenziando la condotta del corrotto ad avere la ristrutturazione dell'appartamento, la maserati, poi il vestito, poi l'autista, insomma proprio classica e quindi è anche molto divertente se la leggete e a fronte di questa situazione il docente ha poi preparato dei requisiti che sono quelli che vedete alla fine di questa pagina e il gruppo informazione si è concentrato a capire quali erano i tipi di reato e quale poteva essere appunto la soluzione al caso stesso. Un esempio invece di autocaso è quello che vi riporto qui e che noi abbiamo raccolto dopo che abbiamo assegnato il compito che vedete appunto nella parte a sinistra della slide a un gruppo di lavoro, gli abbiamo chiesto di scegliere un caso e di decidere se scegliere un caso realmente accaduto o inventato anche sulla base di qualcosa che conoscevano, di descriverlo accuratamente contestualizzandolo nel tempo, nell'organizzazione e nella realtà sociale in cui si è verificato o si potrebbe verificare e di identificare tutti gli attori coinvolti nel caso, di illustrare le implicazioni su quelle tre dimensioni che vi illustrava Massimo Di Rienzo prima, cioè nell'individuo, nell'organizzazione e nella società, le forze del dilemma etico anche che avevamo già precedentemente fatto in aula. Quindi anche qui vi riporto un caso che è significativo perché c'è stato raccontato poi dal gruppo che aveva deciso di sceglierlo, era un caso sulla stabilizzazione di personale lavoratore socialmente utili per cui una commissione doveva stabilizzare 400 di questi lavoratori, su 1870 che avevano fatto la domanda. Naturalmente la commissione sapeva che è una prassi consolidata quella di avere segnalazioni e si è attrezzata, si sono dati delle regole insieme decidendo che lavoravano in un luogo segreto, che cambiavano per quel periodo le schede telefoniche e che si sottraevano in tutti i modi a forme di interlocuzione soprattutto con la sfera politica. Nonostante questo, come vedete appunto poi se leggete il caso, sono stati raggiunti da un politico a livello regionale che ha tentato un approccio prima con il presidente della commissione, non ci è riuscito neanche con gli altri e alla fine ha mandato un fax in cui diceva come da accordi presi i nominativi che vi segnalo sono. Quindi per dirvi appunto come si può anche arrivare a delle forme che sono quelle classiche, nonostante le persone in qualche modo si attrezzino per sfuggire in tutti i modi. Se leggete poi il caso vedete appunto naturalmente le persone che hanno lavorato in questo gruppo ci hanno detto che il caso come vedete alla fine è realmente accaduto e di natura autobiografica anche diciamo se reso neutro da tutti quegli riferimenti che sono, che consentono di identificare i nomi, le persone eccetera. Allora queste cose secondo me la ricchezza delle situazioni che possono determinare poi attività importanti dal punto di vista della corruzione e la scoprite soltanto interrogando direttamente le persone all'interno delle amministrazioni. Naturalmente sia nel caso dell'analisi organizzativa, quindi quella condotta all'interno del contesto della vostra amministrazione guidata appunto dal responsabile come sarebbe meglio, sia nel contesto formativo che possono gestire i formatori direttamente, la definizione della situazione è importante perché appunto i fatti da soli non bastano a spiegare tutto quello che succede, la contestualizzazione è importante e si deve sempre considerare appunto da un lato il fattore umano, dall'altro la cultura organizzativa e soprattutto la cultura sociale perché come abbiamo visto anche nei casi che vi raccontava Massimo, l'esterno penetra sempre diciamo all'interno, c'è sempre uno scambio, dall'esterno all'interno e viceversa. La situazione in cui viene descritto il caso si definisce considerando le condizioni entro quali agiscono individui e società, quindi valori economici, sociali, religiosi, intellettuali eccetera che influenzano al momento dato, gli atteggiamenti preesistenti nell'individuo o nel gruppo che al momento dato esercitano un'influenza sul suo comportamento e il contesto sociale, cioè l'insieme di valori, credenze, opinioni eccetera eccetera. Questa non è altro che una definizione sociologica di quello che è il contesto sociale. Naturalmente per rilevare i casi sia nel gruppo di lavoro sia nel gruppo informazione dovete partire dal fatto che l'esperienza dei partecipanti è il materiale primario da raccogliere. La tecnica del racconto e della discussione attraverso una sequenza di fasi può aiutare a illustrare e definire episodi specifici, che la cautela è indispensabile per la delicatezza del tema. Quindi vi direi che va seguita una metodologia precisa che io qui vi accenno ma che potete approfondire ovunque, se volete proseguire in questo senso. Va fatto un racconto dettagliato del caso, come vi dicevo evidenziando questi tre aspetti, contesto organizzativo, contesto sociale, fattore umano. Vanno date informazioni su richiesta degli altri componenti del gruppo, va fatta una discussione del caso, perché appunto come vi dicevo prima la discussione aiuta anche a ridefinire la portata etica di quello di cui si sta parlando. Conclusioni sul significato, sulle decisioni prese, sulla risoluzione del caso secondo principi eticamente adeguati e compatibili alle regole codificate. Ma sono compatibili con le regole codificate, anche questa è una domanda da farsi poi quando si lavora ai casi. E poi un confronto quando c'è con la soluzione reale. Prima di questo, prima di concludere, vi dico soltanto che rispetto all'esperienza che abbiamo realizzato in questo lungo periodo di progetti sull'anticorruzione, con Massimo e con altri docenti, con gli esperti, ci siamo trovati davanti a casi che sono abbastanza usuali, anche questo vi voglio riportare perché viene da un piccolo comune del Lazio in cui un'ausiliaria del traffico doveva versare gli incassi settimanali e una volta fatto il ragioniere però dell'amministrazione del comune ha chiesto conto e ha verificato che l'incasso era molto basso, quindi ha fatto un versamento che sicuramente era inferiore alla quantità di multe che aveva fatto questa ausiliaria e quindi una volta chiamata a rispondere di questo fatto ha dichiarato di averlo fatto per necessità economiche e l'amministrazione non l'ha sanzionata, ma l'ausiliario del traffico non è un dipendente, è esterno all'amministrazione e questa sicuramente è una condotta non edicamente adeguata per dirla con il piano nazionale, però credo diffusa, allora rientra nei processi a rischio l'ausiliario del traffico, in ogni caso è un comportamento che va sanzionato, è un comportamento di cui il responsabile deve avere contezza e quindi delle soluzioni vanno in qualche modo messe in campo, questo per dirvi una cosa piccola che solitamente succede. L'altro all'opposto, vi dico che invece a proposito di cose più importanti abbiamo avuto in aula anche il responsabile dell'anticorruzione, il segretario generale del comune di Saronno poco dopo che era successo questo fatto che ha portato praticamente poi alla morte del sindaco di Saronno perché proprio un vigile urbano poi se vi ricordate aveva appunto aggredito, aveva sparato a questa persona e che poi era stata in coma per un po' di mesi ed era morta, il responsabile dell'anticorruzione mentre ci raccontava il caso era ovviamente molto molto provato per le conseguenze che questo caso aveva avuto, essendo stato lui poi diciamo quello che aveva avviato i procedimenti proprio perché appunto lì i vigili erano coinvolti in appunto comportamenti di corruzione che ormai erano diventati evidenti. Allora ci vuole cautela, ci vuole metodo e ci vuole anche esercizio, nel senso che quando lo farete, quando verificherete il fatto che mettendo delle persone insieme poi c'è anche molta disponibilità a raccontare, le cautele che prenderete sono quelle che saranno anche dettate dal buonsenso in qualche modo. La cosa che io vi invito a fare appunto è a farlo questo catalogo dei casi, ogni contesto amministrativo a seconda naturalmente delle caratteristiche della situazione sociale esterna in cui opera ha delle peculiarità, quindi è importante che le amministrazioni costruiscano i loro cataloghi dei casi e che questo strumento serva in maniera integrata a tutti gli altri che sono parimenti importanti perché va fatta l'analisi del rischio, vanno adottati i codici di comportamento, vanno interrogati gli uffici disciplinari delle amministrazioni per conoscere il loro operato e il comportamento dei dipendenti, va fatto tutto questo, ma va fatta anche questa analisi dei casi. Voglio concludere proprio con una citazione dal piccolo principe, agli adulti piacciono i numeri, quando raccontate loro di un nuovo amico non vi chiedono mai le cose importanti, non vi dicono qual è il suono della sua voce, quali sono i suoi giochi preferiti, fa collezione di farfalle, le loro domande sono quanti anni ha, quanti fratelli, quanto pesa, quanto guadagna suo padre, solo allora pensano di conoscerlo. Un po' per farvi riflettere che i numeri sicuramente aiutano e sicuramente indirizzano verso soluzioni adeguate organizzativamente per il contesto in cui bisogna prendere delle misure per prevenire la corruzione, ma l'analisi qualitativa, come può essere quella dei casi, vi fa capire qual è il suono della vostra amministrazione, qual è il clima etico e quali sono anche tanti altri provvedimenti che si possono prendere rispetto a quelli che sicuramente sono importanti nel momento in cui si analizzano i processi a rischio. Poi per finire, siccome non sono una sadica, vi do anche la soluzione al studio di caso che vi ho presentato, quello di Achille Bianchi che potete leggere perché poi il caso era un caso reale. Quindi le risposte a quelle domande che sono state fatte alla fine. Nei momenti in cui abbiamo utilizzato gli studi di caso abbiamo scoperto una ricchezza, una casistica veramente infinita, sia dal punto di vista spesso della complessità delle forme che prende la corruzione nel momento in cui delle persone decidono appunto di attuarla, di esserne appunto attori e sia rispetto a quelle che possono essere le misure che l'amministrazione mette in campo, che spesso richiedono proprio il concorso di tanti settori dell'amministrazione. Quindi bene per i referenti di pensare ai propri processi a rischio, però appunto mettere insieme vari settori dell'amministrazione vuol dire sconfiggere anche o comunque cercare di prevenire quello che può essere la corruzione che si organizza proprio per attraversare in maniera articolata e a volte anche silenziosa, sotterranea e abbastanza invisibile le amministrazioni. Dunque, ma se il responsabile non intende analizzare nulla, anzi è connivente, chi abusa che si fa? E queste sono le solite domande, su questo io che vi posso dire? Io naturalmente parlo al netto di queste cose, mi immagino che il responsabile svolga il proprio ruolo in maniera consapevole, appunto responsabile come dice la parola stessa e che queste cose in qualche modo le faccia. Può essere un esempio non accettare che gli amministratori portino preventivi per affidamenti di fornitura di bene e naturalmente parlo di prodotti non sul MEPA. Sì, su questo poi, sugli studi di caso, come vedete, sulle misure che possono derivare da quella che è l'analisi dei casi, possiamo confrontarci tantissimo. Io spero che voi abbiate capito il senso del fatto di utilizzarlo proprio come strumento insieme agli altri, lo studio di caso. La costruzione del catalogo è quello che poi viene alla fine. C'è un problema normativo perché in alcune PIA c'è una figura unica di dirigente responsabile di trasparenza e anticorruzione, come negli antiparco. Naturalmente sui problemi organizzativi, come sempre noi da qui, da questo livello, non riusciamo ad intervenire. Quindi quello che vi dico è che responsabile dell'anticorruzione con referenti, dirigenti dei settori a rischio e livello politico e livello formativo dovrebbe avere un rapporto costante di lavoro e finalizzato alla risoluzione di tutto, cioè non solo di mettere in campo le misure di quelli che sono i settori a rischio prevalenti, ma anche di quelle che sono condotte, che come vi dicevo prima, possono precedere i veri e propri casi di corruzione. Non so se avete altre domande rispetto anche a quello che ha detto Massimo, che sta qui in stanza con me, che vi può rispondere o se volete chiedermi degli approfondimenti su questa parte più metodologica. Quando noi abbiamo utilizzato, vi dico soltanto questo, in un'aula di formazione sono tanti gli espedienti che si possono trovare e sono sicura che i formatori delle vostre amministrazioni su questo vi possono dare una mano. Per rompere il ghiaccio le prime volte avevamo preparato delle carte tipo carte da gioco, che in realtà contenevano ognuno all'interno una parola che riportava alla casistica sulla corruzione. Abbiamo fatto pescare alle persone singolarmente una di queste carte e gli abbiamo chiesto se quella parola evocava nei ricordi, nelle esperienze, un caso o direttamente capitato alla persona oppure che conosceva la persona e quindi di raccontarcelo. Naturalmente abbiamo lasciato massima libertà rispetto a quello che era il racconto, quindi abbiamo chiesto che chi voleva, poteva raccontarlo a voce, poteva condividerlo con gli altri partecipanti oppure potevano scrivercelo e consegnare il foglio soltanto a noi se volevano non condividerlo. Sono tanti gli espedienti che si possono mettere in campo per facilitare anche in contesti dove non c'è una propensione diciamo abbastanza naturale a condividere poi i casi. Però io credo che chi ha in mano poi le redini rispetto all'anticorruzione questo sistema lo deve trovare, uno tanti può anche cambiare nel tempo, naturalmente un'amministrazione che abitua anche le persone dipendenti a tenere a mente i casi che succedono perché periodicamente magari li rileva facilita questo percorso, quindi sicuramente dalle difficoltà iniziali si può poi arrivare a percorsi più agevoli nel farsi raccontare i casi. Il problema che è responsabile Mario, il problema che è responsabile in genere è un dirigente che l'attività prevista? Dorotea Grasso, nelle nuove linee guida dell'ANAC è caldamente suggerita l'istituzione di gruppi di lavoro, potrebbero essere trasversali o uno per settore, qualche suggerimento? Io vi dico la mia dal punto di vista del metodo e poi lascio rispondere anche Massimo Dirienzo. L'istituzione di gruppi di lavoro sì, sicuramente è un metodo, trasversali o uno per settore? Questo dipende dai problemi che ci sono dentro l'amministrazione e da quelli che l'amministrazione ha già rilevato. Il mio parere è che se sono trasversali è meglio, proprio per quello che vi dicevo prima, perché i casi più articolati che deve fronteggiare un'amministrazione attraversano vari settori dell'amministrazione stessa, quindi forse è meglio fare così. Lascio la parola a Massimo che vi dice la sua. Allora, così Patrizia prende anche un po' fiato. Allora, sì, condivido quello che ha detto a Patrizia. Nella mia esperienza la varietà, cioè il fatto dell'eterogeneità è sempre una ricchezza, soprattutto in chiave divulgativa, cioè quando per esempio io utilizzo quei casi in qualche maniera nella formazione soprattutto sul codice di comportamento. Il piano nazionale, aggiornamento del piano nazionale, invita a essere più specialistici in alcuni casi. Allora, io la metterei un po' così. C'è molto bisogno di divulgazione su questi temi, c'è proprio bisogno di entrare in aula e fare due o tre casi che facciano vedere che cosa significa questa complessità, riportare un po' la complessità, nell'accezione ampia di corruzione, non solo la corruzione, ma anche i comportamenti, le condotte, le prassi, queste cose qui. Perché la gente è proprio disabituata ad osservare e accogliere l'efficacia simbolica dei comportamenti. I comportamenti, qualsiasi comportamento restituisce un'informazione su come stanno le persone, come stanno sia da un punto di vista emotivo, ma quello ci può interessare di meno, ci interesserebbe chi si occupa del benessere organizzativo, a noi chiaramente ci preoccupa molto di più come stanno le persone rispetto alle proprie condotte, quanto pensano sia compatibile la loro condotta con quello che ci richiede dell'ordinamento giuridico. Questo è un grosso sforzo di formazione che io vedo ancora molto difficile, gli schemi di formazione attuali sono molto classici, basati sulla normativa. Poi c'è una questione legata alla qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione, formazione fatta per utilizzare quelle informazioni non a sé stanti, solamente per rafforzare lo spazio etico di dipendente, ma anche per fare in modo che quelle informazioni transitino dentro al piano triennale di prevenzione della corruzione. Questo è uno sforzo ancora più importante e molto più complesso, in quel momento secondo me i gruppi di lavoro entrano in scena, i gruppi di lavoro per esempio dei referenti, creare un gruppo di referenti, il piano nazionale i referenti sono quelli che scambiano informazioni, sia nella costruzione del piano che nel monitoraggio delle misure, sono quelli che in qualche maniera alimentano l'informazione con i responsabili della prevenzione della corruzione. Avere un gruppo di referenti che è in grado di leggere il contesto, di restituirlo per quello che è, è chiaramente un'arma per i responsabili della prevenzione della corruzione fondamentale. La questione di cui parlava invece la dottoressa Grasso, quando non può essere un esempio a non accettare che gli amministratori portino preventivi per affidamenti di fornitura di beni eccetera, molti casi quando soprattutto vado nei comuni mi rappresentano questa difficilissima e complessa relazione tra l'amministratore, quindi la componente politica e la componente tecnico-amministratica, ce ne sono tantissimi di situazioni in cui l'amministratore in qualche maniera prova a forzare la mano. Sarebbe interessante in questo caso metterlo in scena creando un protagonista, cioè un signor rosso amministrativo che riceve la visita dell'amministratore che gli fa capire che in qualche maniera dovrebbe favorire attraverso procedure diverse da quelle ordinarie, semplicemente dovrebbe favorire perché per esempio una cosa che esce sempre è la questione legata al fatto che dobbiamo far lavorare i nostri, quelli del territorio, è inutile fare procedure aperte che poi ti arriva la multinazionale e i nostri muoiono di fama. Ora questa roba qui può essere anche vera, il senso che un amministratore sta lì anche per questo, ma non può assolutamente incidere nella qualità della procedura, nella correttezza e l'imparzialità della procedura, non si può utilizzare un'informazione di quel tipo per poi chiaramente ledere la qualità del processo decisionale del tecnico. Che tipo di strumenti ha quel tecnico di fronte a una situazione del genere e che tipo di ragionamento fa l'amministratore, io comincerei a pensare quali sono le informazioni che mi restituisce un caso del genere. In quel posto ci potrebbe essere una situazione di disattenzione verso gli standard etici ovviamente che un piano triennale di prevenzione della corruzione dovrebbe assolutamente assumere come informazione perché può effettivamente provare a mettere in campo delle soluzioni organizzative adeguate. Questa formazione afferente al comportamento dovrebbe essere fatta a qualche segretario generale in quanto la segnalazione di fatti veri e concreti risponde per scritto. Non si sa se si deve procedere. Quella è una risposta un po' che ci lascia un po' perplessi. Mi piacerebbe avere delle statistiche sul whistleblowing. Mario li vorrei anch'io, perché io mi occupo di whistleblowing da ormai da un po' di tempo. Noi aspettavamo con tanta ansia queste famose, sapete che ci sono le relazioni annuali dei responsabili anticorruzioni. Sarebbe stato molto importante avere una sintesi dell'ANAC su alcuni punti strategici. È uno sicuramente dei punti strategici, ma la gente sta segnalando o non sta segnalando. arrivano un po' delle notizie, soprattutto riguardo a situazioni che uno conosce. Io mi faccio dire magari da persone che stanno arrivando le segnalazioni, ma io vorrei un punto di vista ufficiale rispetto a questo. Sarebbe molto interessante. Sapete che la normativa ha parecchi difetti, anche il DDL che è stato presentato recentemente ha molti difetti. C'è ancora tanta strada da fare. Poi bisogna fare molta formazione, in generale su tutto. Io quando vado a fare formazione mi rendo conto che a tutti i livelli questa norma è veramente considerata dal punto di vista strettamente adempimentale. C'è tantissima strada da fare su questo punto di vista. Però per farlo bisogna a mio avviso non continuare a terrorizzare tutti, dal responsabile della prevenzione della corruzione ai singoli dipendenti attraverso formule di formazione molto antica. Ormai basterebbe vedere quello che fanno negli altri paesi e cercare di riprodurlo. rispetto alle domande che state facendo. Come vi diceva Massimo, sicuramente per avere delle segnalazioni bisogna organizzare degli eventi formativi anche perché è un classico il fatto che la situazione di formazione venga considerata un po' come un evento neutro in cui si può magari più facilmente raccontare e dire che venga considerato appunto come un laboratorio all'interno dell'amministrazione in cui è consentito anche qualche cosa di più. Fermo restando che come dico sempre la valenza del lavorare in gruppo consente di portare avanti degli obiettivi anche abbastanza sfidanti rispetto al fatto di considerarli poi individuo per individuo. Cioè lavorare in gruppo è un metodo che dentro le amministrazioni dovrebbe essere adottato molto di più, intanto perché consente appunto di arrivare a risultati nettamente superiori rispetto al lavoro individuale e poi perché all'interno del gruppo ogni volta vengono ridefinite le situazioni e ridefiniti anche i contenuti di quello di cui si sta ragionando. La formazione naturalmente questo processo lo facilita molto. risultati molto interessanti di cui siamo contentissimi e massimo anche all'interno di questo progetto sono relativi proprio a questa esperienza di formazione formatori fatta in Sicilia. Ve l'ho detto tante volte, all'inizio non so se si sentiva con le difficoltà che avevo con il microfono, ma formare i formatori è una leva importante organizzativamente perché in qualche modo rispetto a questi temi consente poi di avere delle ricadute molto da un lato veloci e dall'altro anche molto diffuse dentro l'amministrazione. Manca la cultura del lavoro in gruppo, come dice Elisabetta Donanno, sicuramente eppure se ci pensate è uno strumento anche abbastanza semplice perché noi all'interno dei contesti di lavoro è una modalità che di solito viene utilizzata, non si capisce perché nella pubblica amministrazione invece è molto di meno perché ci sono appunto dei retaggi rispetto al fatto che la condivisione non sia proprio una modalità. usuale. Quello che vi volevo anche dire rispetto a una domanda precedente, rispetto a chi mi chiedeva qualche consiglio sulla mappa dei processi, saremmo fuori tema oggi però vi rimando invece al seminario, all'ultimo che faremo all'interno di questo progetto che è quello del 21 dicembre in cui vi parlerà dell'analisi del rischio, della mappa appunto dei processi a rischio, Sandro Brunelli che conoscete già perché ha realizzato gli altri seminari appunto su questo tema. vi ringrazio tanto, vi saluto, lascio la parola per la chiusura a Giussi, vi ricordo che se ci dite quanti siete che seguite nelle mini aule come hanno fatto molti partecipanti, la prima volta prenderò gli ultimi 5 minuti della comunicazione di Brunelli per darvi anche dei risultati quantitativi, perché io ci tengo ai numeri anche, quindi mi voglio vantare almeno con voi che ormai siete praticamente amici nostri, amici del progetto, sui risultati straordinari che anche dal punto di vista quantitativo ha raggiunto questo progetto, perché attraverso i webinar e attraverso le altre poche attività che abbiamo fatto in presenza abbiamo toccato veramente tantissime amministrazioni, quindi vi darò poi un rapido resoconto, soltanto per vanità questo, perché poi alla fine non so se servirà a qualcosa, però voglio vantarmi almeno con voi del risultato. Lascio la parola a Giussi, ci sentiamo in realtà prestissimo lunedì prossimo e vi ringrazio tanto per aver seguito, naturalmente troverete le slide sulla stessa pagina di Eventi.pa da cui vi siete iscritti per chi l'ha chiesto nella chat mentre parlavamo. Grazie mille e a lunedì prossimo.